eccomi sono in diretta ciao a tutti vorrei subito sentire qualcuno che mi dica si sente tutto bene allora aspettiamo un po per vedere se c'è qualcuno qui mi dicono tagga amici condividi in un gruppo io non ho mai fatto diretta e quindi non so nulla io vedo di essere in diretta vi prego qualcuno si faccia vedere eccoci un occhietto c'è due occhietti ci sono avevo già l'ansia che non si vedesse non si sentisse scrivetemi se mi sentite bene 3 sta guardando isabella nicora unicora scusami se sbaglio il cognome francesco sainato ciao 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 mis potete scrivere per favore se mi sentite bene la vale vi prego ditemi se si sente così posso andare ciao a tutte ciao 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 mi sentite oh grazie vale così almeno sono tranquilla ciao a tutti allora volevo aspettare ancora un minuto non so esattamente che ore siano sono le 16 59 volevo aspettare ancora qualcuno per cominciare in realtà volevo aspettare proprio le 17 forse le 17 01 grazie mi state mi state rasti sul fatto che si senta tutto bene ciao per chi non mi conosce sono lucia caponetto ho un canale youtube lucci con due i la i normale quindi lucci underscore legge dove faccio questo dove leggo favole fiabe per i bambini e leggo brani di romanzi quindi se poi oggi vi piacerà e vorrete andare a iscrivervi al mio canale youtube io sarò solo che contenta allora bando alle ciance e cominciamo subito con la presentazione del mio gigi che il mio orsetto di quando ero bambina e che mi accompagna dall'inizio di questo percorso grazie grazie antonella ragazzi vi saluterei tutti ma alla fine faccio una diretta solo di saluti quindi vi bacio tutti e vi ringrazio di essere di essere così numerosi alla nostra prima diretta su facebook dicevo questo è il mio gigi con il quale ho raccontato tante storie sul canale youtube prima faceva il protagonista leggeva da solo e poi gli è venuto una timidezza un po particolare quindi alla fine siamo sempre insieme leggiamo leggiamo insieme allora che cosa che cosa mi ha spinto a fare una diretta oggi ho conosciuto ieri sera via messenger la signora fiorenza pistocchi che ha scritto una fiaba per i bambini chi è la signora fiorenza pistocchi è lei dice una ex maestra secondo me le maestre sono maestre tutta la vita noi insegnano tutta la vita e lei scrive gialli e romanzi storici ma ricordando della sua esperienza da maestre ed amando i bambini ogni tanto si diletta e scrive fiabe per i bambini allora oggi vi leggerò le prime i primi cinque capitoli non spaventatevi perché sono molto brevi i primi cinque capitoli di questa storia adesso la vado a prendere si chiama tiglia la talpa coraggiosa di fiorenza pistocchi tiglia è una talpa vive sottoterra in una grande tana piena di gallerie dove abitano i suoi fratelli le sorelle mamma papà cugine cugine amiche amici ci sono tantissime persone è la talpa più miope del popolo dell'erba profumata ma non lo sa perché sottoterra non ha mai avuto bisogno di vedere se uscisse all'aperto sentirebbe il calore del sole il profumo dei fiori e delle erbe il rumore delle formiche che marciano e ronzio delle api in volo ma non vedrebbe nulla i suoi occhi sono così piccoli che non li ha mai aperti le talpe come tiglia si riconoscono dall'odore strofinano i loro nasi sensibili e si toccano colore buste zampe tiglia è una cucciola allegra e felice uno dei giochi preferiti delle piccole talpe è trovami se sei capace che è un po il nostro nascondino tiglia va a nascondersi con i suoi amici e il cercatore deve scoprire dove sono e dire il loro nome è bravissima e vince sempre perché sa distinguere gli odori di ciascuno rosadia odora di fieno salvina di trifoglio ortadio od ortadio di muschio l'uvio di prezzemolo norio di lattuga tiglia sa di quadrifoglio una pianta molto rara al buio sente i suoi amici e li riconosce dai risolini e dai grugniti che fanno mentre si nascondono nelle gallerie della grande tana dove abita il suo popolo un giorno l'uvio dice dai tiglia giochiamo si faccio io la cercatrice no 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 tu ci scopri sempre dice rosadia oggi voglio cercare io va bene dice ortadio però non imbrogliare tocca cinque volte tutte le dita delle tue zampe prima di partire mentre rosadia comincia a toccarsi le dita stando attenta a non dimenticare il ditino più piccolo tiglia corre via per di fiato va così lontano che si trova in una galleria mai vista prima qui non mi troveranno pensa improvvisamente sente mancare la terra sotto le zampe aiuto rotola in fondo a un buco una specie di pozzo quando è ferma si distende e si scrolla un po per fortuna non si è fatta male la folta pelliccia la protetta dove si trova comincia a testare intorno con le zampe il musetto il terreno è umido è in una galleria molto profonda forse l'hanno scavata gli antenati oddio che paura la mamma le ha raccontato che tanto tempo prima gli antenati si erano rifugiati in gallerie scavate in tutta fretta in profondità erano fuggiti da un mostro che aveva distrutto le loro tane era una bestiaccia con delle lunghe zanne scintillanti dopo l'assalto del mostro molte talpe rimaste in superficie non erano più tornate da quel giorno il popolo dell'erba profumata per prudenza era rimasto sempre sotto terra la galleria dove si trova tiglia conduce a un salone tiglia lo misura con i passi delle sue zampette sono tantissimi com'è grande cosa faccio adesso il salone è a vuoto e odora di muffa tiglia trova un passaggio in salita dalla parte opposta della sala se entro in questo passaggio mi allontano sempre più da casa allora torna all'inizio del salone e cerca di arrampicarsi nel pozzo dal quale è caduta ma scivola cerca di scavare un tunnel ma trova da ogni parte delle grosse pietre che la ostacolano e va bene uscirò da quel passaggio si avvicina incerta ogni tanto si ferma per annusare tastare il terreno si allontana sempre più dalla grande tana del popolo dell'erba profumata cammina per molto tempo poi stanca affamata si addormenta quando si sveglia riprende il cammino sente l'odore dei lombrichi ecco un fruscio un verme le passa accanto e tiglia gli afferra la coda il lombrigo per salvarsi gliela lascia staccare tanto gli ricrescerà tiglia così fa colazione cammina ancora per poco la galleria termina con un'apertura tiglia spogge la testa e sento un soffio forte che le arruffa il pelo è all'aria aperta ma non lo sa non c'è mai stata un'aria piena di cose che non ha mai sentito prima tante puzze insopportabili e rumori assordanti piena di paura non sa cosa fare se torno indietro mi troverò di nuovo nel salone sottoterra se rimango qui muoio di fame allora esco si spogge timidamente dall'apertura della galleria e fa qualche passo non sa di essere sbucata in una città sul bordo di una strada in un'aiuola con poca erba stentata cartacce e vetri rossi rotti sente l'odore dell'erba e si muove per raggiungerla improvvisamente qualcosa le sbuffa addosso sembra il fiato di un animale ma quale tiglia conosce solo il lieve respiro delle altre talpe e il sussurro sottile delle larve degli insetti e dei lombrichi questo invece è forte e minaccioso si appiattisce al suolo e rimane immobile una cosa umida e rotonda la fiuta e qualcosa di liscio una lingua enorme la lecca e la fa rotolare si mette a piangere non piangere dice una voce potente che arriva dall'alto ma chi parla se è una talpe gigantesca pensa tiglia chi sei chiede rum timorosa sono cort il cane da guardia del distributore di benzina più accanto non mi vedi eccoci qua siamo arrivati alla fine della prima parte della fiaba allora vi chiedo scusa perché ho fatto qualche errorino ma intanto perché ogni tanto dico la verità cercavo anche di guardare i vostri commenti e allora mi distraevo un po comunque andiamo al sodo bambini questa fiaba può essere raccontata come ho fatto oggi oppure può essere raccontata su youtube salvo autorizzazioni diverse sempre a puntate oggi vi ho raccontato i primi cinque capitoli fatemi sapere mamme magari stiamo un pochino ancora in diretta così fate in tempo a scrivermelo se preferite una diretta giornaliera oppure su youtube che io ve le racconti due tre volte alla settimana ma adesso aspetto che scriate voi a scrivere un po vediamo che cosa mi dite non posso stare qui a lungo è quindi facciamo così visto che non vi posso annoiare vi dico questo che oggi vi saluto aspetto con ansia i vostri commenti in modo che capiamo come procedere questa fiaba ancora un po di capitoli è stupenda e quindi avrei proprio piacere che continuassimo a scoprirla insieme fatemi sapere cosa volete fare io vi do un abbraccio gigi saluta ciao bambini e un abbraccio a tutti ciao 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 ciao